Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi spiegherò come fare l'evento degli infami in eroico chiamato interrompi il rituale d'etere e il campione degli infami per avviare l'evento in modalità eroico bisogna uccidere i capi degli infami dopodiché quando verrà ucciso il capo degli infami inizieranno uscire queste palline di etere queste palline di etere le dovrete scoppiare tutte ovviamente cercate di evitare che le palline raggiungano il servitore al centro e quindi che magari non vi permetta poi di completare l'evento eroico una volta che avrete distrutto le ultime palline di etere l'evento diventerà eroico e farà spawnare un miniboss con uno scudo resistente una volta che avrete sconfitto il miniboss l'evento eroico sarà completato e vi lascerà al centro una cassa e niente ragazzi il video termina qui, grazie per averlo visto noi ci vediamo in un prossimo video, alla prossima ciao ciao ciao